Marcello, mi hai chiamato? Oddio, scusami tanto, mi ero persa nei miei pensieri. Che è successo? Dove sei? Ero in questo... mi sono persa in questo luogo meraviglioso, sono nel parco Beverly Pepper a Todi, dove natura, scultura, acciaio corte, acciaio inox e pietra si fondono tutti insieme in un percorso veramente da scoprire. Hai capito? Bravo. Siamo infatti in questo parco, dal nome particolare, no? Beverly Pepper, non ci sembra un'autoctona a sentire il suo nome. Si tratta infatti di una scultrice americana che da Brooklyn si trasferisce negli anni 70 vicino Todi e ne fa la sua patria di elezione. È stata una delle prime scultrici ad utilizzare il ferro e l'acciaio e qui a Todi ha creato la maggior parte della sua produzione artistica. Nel parco Beverly Pepper sono conservate infatti 16 statue che ripercorrono tutta quanta la sua vita artistica. Non in termini cronologici, sono posizionate ognuna nel luogo dove dovevano stare, dove l'artista ha pensato di riuscire a integrarle in un percorso artistico e naturale che ne fa un'opera d'arte totale. Ma sono enormi queste opere d'arte, sono molto grandi. Sono gigantesche Marcello, io sono proprio di fronte a The Todi Columns, le colonne di Todi. Una delle opere più legate alla città di Todi sono in acciaio corten, l'acciaio che veniva utilizzato per costruire le navi. E vengono in esposte qui per la prima volta nel 1979, ma non nel parco, proprio nella piazza al centro della città medievale di Todi. Sono ritornate qui nel 2019 e vengono esposte come un omaggio alla città che ha adottato Beverly Pepper, perché Beverly Pepper ha voluto fare il suo luogo di produzione e di vita. Ma che bello. Nel percorso, che è di circa due ettari, un parco di due ettari, dimmi Marcello. No, che la parola che hai scelto oggi è Land Art, quindi evidentemente è proprio una... Non so se definirla a modo o che cosa, ma ci sono questi parchi tematici artistici in giro per il mondo? Ce ne sono, ma questo è il primo parco monotematico dell'Umbria e Land Art vuol dire... Lo vediamo qua, siamo in una delle espressioni della Land Art, dove l'opera d'arte non si fonde solo con la natura, ma ne diverta parte integrante, seguendo nelle forme naturali e facendo di questo luogo magico un tutt'uno tra natura, scultura e arte, dove ci si può perdere. Beverly Pepper stessa diceva che questo non era il parco di Beverly Pepper, ma era il parco dei Tuderti. È per loro, è per perdersi, per viverlo, per stare nei propri pensieri, un po' come mi hai trovato prima tu nei miei pensieri appoggiata a una delle Todi Collins. È restata influenzata dal parco, però ti chiedo una cosa che mi incuriosisce, sono tanti gli artisti che da tutto il mondo scegliono l'Italia per fare le loro opere, cioè noi che cosa abbiamo in più in questo paese? Perché di bellezza onestamente ce l'hanno anche negli Stati Uniti, non è che gli manca la natura. Marcello, noi possiamo dircelo, l'arte e la natura in Italia si fondono in una maniera che nel resto del mondo non riusciamo a ritrovare, quindi immagino che gli artisti stranieri vengono rapiti da questo mondo che ci accoglie tra appunto natura, arte, storia, realtà ed esperienze che si possono fare solo qui nella nostra terra meravigliosa. Sono assolutamente d'accordo con te, guarda caso che l'Umbria è una di queste realtà che unisce tutte le cose meravigliose che hai detto.